Ciao a tutti, oggi qui siamo seduti nei nostri prati, nei nostri campi, qui nella nostra sede di vivere naturale, qui da Rogna Mirko. Faremo un giro insieme per oggi raccogliere le erbe spontanee per preparare le insalate che possono essere utili per altri sughi, decotti e quant'altro. Vento a spiegare le numerose erbe spontanee che si possono raccogliere e utilizzare in vari modi. Chiaramente questo è un video esplicativo e vi farò vedere cosa normalmente utilizzo io. Chiaramente voi se non conoscete le piante assolutamente non è che potete fidarvi ciecamente di quel che vi dico. Se avete dei dubbi, documentatevi e non raccogliete, non mangiate assolutamente cose che non siete assolutamente sicuri. Quindi questo è un video chiaramente solo informativo e non è assolutamente un qualcosa che dovete prendere come legge. Adesso vi farò vedere tutto quello che possiamo trovare. A dopo! Eccoci qui in una zona molto, diciamo, ombrosa e fresca, la Giudette d'Ebora che sta raccogliendo appunto la Valeriana. In questa zona qui, dove è riparata dal sole, diciamo che la temperatura è più fresca. E troviamo la Valeriana e il Songino. Eccola qui, una splendida pianta di Valeriana. Eccola qui. Questa qui la riconoscete dalla caratteristica foglia, diciamo così, ovale e con dei solchi molto segnati sulle foglie. Come vedete, ecco qui un'altra pianta. Andremo a raccoglierla. Debrò passare il poltello. Eccoci qua. Vi farò vedere esattamente. La andremo a tagliare lasciando sempre la radice sulla terra. Nella terra. Perché? Perché chiaramente questa pianta andrà poi di nuovo a crescere. Quindi è sempre importante non stirparle le nostre piantine totalmente. Ma sempre lasciare la radice nella terra. Ecco qui, come vi ho detto, questa qui, come vedete, è la classica valeriana. Molto buona per le insalate. Ok? Questa è una. Adesso vi farò vedere molte altre. Queste ne abbiamo molte. Faremo delle grosse scopacciate. Le mangiamo praticamente tutti i giorni. In questo periodo. Ok? Ecco qui. Altra pianta commestibile è la silene. In questo caso la silene è vulgare. La vedete per questa forma. Con le punte molto, diciamo così, appuntite. E le trovate, diciamo, in mezzo alle altre erbe spontanee. Vedete? Ne troviamo molte di questo tipo. Insieme alla silene troviamo la piantaggine. Un'altra che è molto... La utilizziamo molto. Eccola qua, se la vedete. Scusate, cerco di mettere in quadratura migliore. Questa è la piantaggine. Che la trovate sia in questa forma, sia nella forma molto più a cuora. È molto caratteristica perché la vedete da queste venature, molto comune nei prati. Questa qui è ottima, specialmente nelle frittate, perché nelle insalate, diciamo così, le foglie sono un po' spesse, e quindi possono essere un po' fastidiosi da masticare. Però vi spiegherò dopo, più tardi, le caratteristiche di ognuna di queste. Ne raccoglierò un po' e ve le farò vedere. Come vedete qui, abbiamo una marea di piante edibili e ve ne farò vedere subito delle altre. Ancora qui vediamo la piantaggine. Qui si vede molto meglio perché la pianta è molto più grande. Questa qui raggiunge anche i 15-20 cm di altezza come foglie. Quindi è molto riconoscibile. Un'altra pianta molto comune qui troviamo sempre il tarassoco. Il tarassoco lo riconosciamo da questi fiori gialli. Ecco qui, ne vedete dell'altro. Questa è ottima nell'insalata. Insieme alla valeriana, queste sono, diciamo così, tra le più comuni che vengono utilizzate per le insalate. Vedete? Qui ce n'è molta. E questa è una pianta molto comune. I fiori anche vengono utilizzati per condimenti, per i risotti e quant'altro. Ecco qui, un'altra pianta che troviamo che è ottima è questa qua, che è la cicoria, la classica cicoria, che è simile al tarasso, ma è, diciamo, la foglia meno seghettata cioè più seghettata e meno separata, diciamo così, del tarasso. Ecco qui, l'ortica. Un'altra pianta ottima sia per le insalate ma specialmente per frettate. Ha altissime proprietà. Qui abbiamo ancora le ortiche in fase, diciamo così, crescente, ancora molto piccole. Queste arrivano a 30-40 centimetri di altezza. Chiaramente, più più piccole, più sono più tenere, migliore. In assoluto. Altra pianta ottima per le insalate è la pratolina o marverite, diciamo così. La riconoscete chiaramente dai classici fiori. Diciamo le pianticine, queste qui sono le foglie, non le fatica vedere, sono molto piccole. Questa qua è ottima anche per le insalate. Ok. Ecco qui, un'altra pianta molto buona in insalata è la piattella. Piattella, lo capite anche voi, è una pianta che riconoscete in modo facilmente perché è praticamente piattissima a terra. Le foglie sono praticamente aderenti al terreno e come vedete rimane schiacciata totalmente a terra. Questo è dovuto al suo nome, piattella.